Perché le grandi cose si fanno sempre con il contributo di tutti, consentite anche di ringraziare i miei collaboratori che hanno organizzato. Emanuele Prisco, oggi penso che sia il giorno più bello, non meteorologicamente perché c'è questo nuvoliccio che dà un po' fastidio, però diciamo che il congedo, se così lo possiamo definire, politicamente da Perugia avviene in un posto storico, forse uno dei più belli, anche per lei che è un tifoso del Perugia, dal Santa Giuliana, che viene rinnovato, tanta emozione, oggi l'abbiamo vista anche nella veste di cerimoniere, il che ci fa anche pensare che può avere un futuro da giornalista. Sì, intanto ovviamente non è un congedo da Perugia, è un congedo dall'amministrazione comunale, perché sono all'onore di essere il parlamentare di Perugia, quindi rimango ovviamente in quella veste, qui i cittadini mi hanno chiamato, ma con grande soddisfazione, un saluto fatto riconsegnando un bene architettonico e sportivo della città, un prezioso bene architettonico all'interno del centro storico, un impianto sportivo dell'atletica, a cui i perugini sono legati anche per fede calcistica, perché qui si sono consumate le giornate storiche e gloriose del grande Perugia di Lario Castagnere, che ci ha fatto anche l'onore di essere qui insieme a noi per ridare alla città questo spazio, uno spazio che la città attendeva da tanti e troppi anni, l'abbiamo voluto fortemente, ci abbiamo messo molte risorse insieme anche ad altri partner, tra cui la fondazione Cassa di Risparmio, e ce l'abbiamo fatta. Non è semplice sempre intervenire, perché anche le pratiche edilizie burocratiche, quando si interviene su beni architettonici e monumentali, non è semplicissimo, ce l'abbiamo fatta, Perugia torna un grande impianto, adesso potenzieremo anche l'illuminazione e quindi sarà fruibile anche di sera. Questo dicevamo che è il giorno in cui Manuele Perisco saluta l'amministrazione comunale di Perugia, non saluta i perugini, poi ci dirà anche come tutelerà i perugini nelle sedi romane, però è un momento anche per fare i bilanci. Comunque a Perugia, al di là delle attività politiche giovanili, poi da consigliere, nell'esperienza del Comune, questa di Assessori, chiaramente è stato un po' il trampolino di lancio che l'ha portata adesso ad essere onorevole, un bilancio di questo periodo di lavoro a Perugia. Il bilancio è giusto che lo facciano altri, io provo a dare il massimo, che è quello che ho imparato facendo sport, che l'importante non è partecipare, ma è dare il massimo. Alle volte vengono anche risultati come questo, altre volte la fortuna non sorride e i risultati non arrivano. Alle volte sbagliamo anche, quindi non sono tra quelli che pensano di avere la bacchetta magica, di aver fatto sempre tutto bene. Ho cercato di fare tutto con il massimo impegno, con dedizione, con amore per la città che ho rappresentato fino a oggi, che rappresento fino a oggi e la stessa passione, lo stesso impegno, insomma cerco di portarle al Parlamento. Perugia ha bisogno per tornare grande anche di essere difesa nelle sedi istituzionali, l'abbiamo fatto sulla questione del bando periferie, quindi sul recupero di fonti vegge in Parlamento, lo faremo laddove servirà nuovamente per difendere gli interessi della nostra città. Quanto conta, a proposito di fonti vegge, quello che è stato fatto dal punto di vista di finanziamenti che sono arrivati, perché lì è un'altra parte, qui parliamo di sport, parliamo di attività ricreative, per lo più lì è una situazione abbastanza difficile da dover recuperare una parte, il cuore della città che sotto l'aspetto del mare della sicurezza, ma anche della stessa vivibilità di Perugini sta denunciando qualche difficoltà, più di difficoltà. Sì, è un'area paradossalmente tra le più servite, è un'area che però anche lì ha un cuore pulsante storico della città che non bisogna dimenticare, l'area dell'innovazione sociale e industriale di Luisa Spagnoli, della Perugina, e su questo ci siamo basati per rilanciarla e recuperarla. In realtà è una delle aree più servite, meglio servite, più funzionali della città, che ha avuto sempre per dimenticanza di troppi anni un periodo difficile. Abbiamo già iniziato ad investirci direttamente riportandoci delle associazioni, e abbiamo inaugurato, e su questo ci hanno seguito anche degli operatori economici, penso alla palestra che ha aperto in Piazza del Bacio, penso a rinnovati locali della Copp, penso a CNA che ha scommesso insieme a noi portandoci il proprio centro di formazione, altre attività che si sono aperte, una scuola, una banca in quella zona, scommettendo su questo futuro, a giorni inaugureremo il co-working sotto i loggiati dell'ex UPIM, va avanti il processo di riqualificazione che sarà ancora più organico e più forte con quei fondi che Perugia ha vinto nel bando periferie e sicurezza urbana, cosiddetto bando periferie, che verranno rimessi nella legge di stabilità e che quindi potranno essere utilizzati per dare più sicurezza, per dare lavoro alle imprese del territorio, perché ovviamente rappresentano investimenti importanti, e perché no, in quell'area che fu dell'innovazione sociale ed economica della città, anche più posti di lavoro, più innovazioni saranno, la caratterizzazione di quel processo di riqualificazione è tutto centrato sulla innovazione, perché quello era il cuore che Luisa Spagnoli volle per quell'area in cui pulsi ancora questa voglia di rinascita, di riscatto e di rilancio verso il futuro. Torniamo allo sport, tra le sue attività che ci sono state in questi anni da assessore al Comune di Perugia c'è stata anche quella di un grande interesse per lo Stadio Curi che insieme al Santa Giuliana rappresenta un altro elemento di grande interesse per i tifosi, per gli appassionati sportivi. Qual è la situazione dello Stadio Curi? Come lo lascia, se questo può essere il termine giusto da utilizzare, che magari la succederà rispetto alla sua posizione? Allora, innanzitutto non solo questi impianti, perché in questi giorni stanno terminando anche i lavori di rimessa in funzione completa del Palazzetto Pellini, abbiamo fatto importanti interventi per 600 mila euro sul Palabarton rinnovato e continueremo a farne degli altri per la sua riqualificazione. Abbiamo fatto interventi anche grazie a una collaborazione stretta con il Perugia Calcio nello stadio che ha portato alla realizzazione anche del casa, del cuore del Perugia, come il Museo Calcio, rinnovata sede, è stata modificata tutta l'impiantistica del settore giovanile, si stanno facendo in questi giorni anche i lavori di messa in sicurezza dei gradoni, vorremmo avviare prima possibile anche la riqualificazione proprio dell'impianto, perché Perugia merita un Renato Curi coperto, un Renato Curi che possa riospitare il grande cuore dei tifosi perugini e il Perugia Calcio che ricordiamo è una tra le più importanti società e più blassonate società italiane ed è giusto che abbia una casa degna della sua storia e degna anche del futuro a cui Perugia l'aspetta. Chiudiamo con una considerazione che ha fatto il Sindaco prima in un'intervista, ha detto noi ci conoscevamo da fioli, questo è il termine che si usa a Perugia, ha grande stima e affetto nei suoi confronti di un percorso politico che avete spesso condiviso, adesso vi separate da un punto di vista professionale, però penso che rimanga una grande stima, un grande affetto per un Sindaco immagino che in questa fase avrà bisogno anche di essere sostenuto perché chiaramente inizia la campagna elettorale per il Comune di Perugia e già si fanno nomi di possibili concorrenti, quindi c'è sempre da lavorare, lavorate voi in politica. Lavoriamo, lavoriamo, se uno vuole lavorare si lavora anche in politica, innanzitutto abbiamo la fortuna di avere un Sindaco straordinario al di là dell'amicizia, lo dico oggi da cittadino, visto che non sono più componente dell'amministrazione comunale, che si è dedicato a ricostruire una comunità prima che una città, poi ci sono anche le opere edilizie, c'è il Santa Giuliana, c'è il recupero del tabacchificio, c'è il mercato coperto, gli arconi, tante opere edilizie, però c'è anche ricostruire un tessuto economico. La voglia di partecipare che abbiamo visto oggi, chi ha portato il contributo architettistico, chi quello sportivo, di una città vuol dire che si sta ricostruendo una comunità e questa è la forza più grande che Romizzi Perzona ha portato in questo suo impegno di Sindaco. Ovviamente gli starò vicino, lo sosterrò per quello che posso, ovviamente sia nella veste parlamentare che in quella politica, ma anche da semplice cittadino. Sì, ci conosciamo da ragazzetti, abbiamo fatto un po' tutto il percorso politico insieme, abbiamo scommesso su questa sua candidatura quando nessuno ci credeva, la città ci ha dato ragione e quindi insomma una grande soddisfazione. Sicuramente cinque anni di amministrazione sono molto duri per chi arrivava tipo Marziano a guidare la macchina amministrativa che hanno sicuramente cementato anche i rapporti interpersonali che già erano in realtà legati da affetto, da tempo e quindi non c'è motivo perché non proseguano alla stessa maniera, anzi colgo l'occasione per fare ad Andrea, a tutta l'amministrazione, a tutto il Consiglio Comunale un grande in bocca al lupo per il proseguo del lavoro e anche per la prossima campagna elettorale su cui i perugini giudicheranno senza che mi debba spendere io l'operato a mio avviso ottimo fatto da questo sindaco che si è dedicato 24 ore su 24 a 360 gradi a ogni particolare di questa città come è giusto che faccia un buon padre di famiglia. Chiudiamo con una battuta, in questi mesi si è parlato molto, da quando lei è diventato parlamentare, Prisco si deve dimettere, ora perché non può mantenere tutte le cariche, anche se da un punto di vista legislativo non c'erano conflitti, comperari tutto a posto, nel senso che è nata qualche discussione, vi siete lasciati bene? Sì, sì, non ci sono discussioni, la maggioranza è forte, c'è qualcuno che ci specula in queste cose, io ho avuto disponibilità ovviamente a lasciare l'incarico ad Andrea dal primo giorno, poi lui mi ha chiesto di continuare a seguire alcune partite importanti, tra cui questa che abbiamo inaugurato oggi, che avevamo sul tavolo, mi sembrava giusto, i crescenti impegni parlamentari non mi permettono ovviamente di continuare a gestire degli assessorati, che non è purtroppo solo quello dello sport, ma c'è anche l'urbanistica e l'edilizia con dovizia di particolari come meritano in questa fase delicata che è quella della fine di questa consigliatura, dove ci sono tanti progetti ancora da chiudere. Ovviamente io rimango a disposizione dell'amministrazione, della città, perché comunque ricordo, faccio il parlamentare di Perugia, quindi lo scappo dalla città, ma anzi voglio dare in una diversa veste il massimo contributo. Noi crediamo nel gioco di squadra, quindi nel gioco di squadra ognuno fa il suo ruolo, l'importante è l'obiettivo. Una battuta sul Perugia la facciamo, visto che lei è un grande tifoso, questo il Presidente Santopare ha detto che è l'anno zero, siamo un po' ripartiti rispetto anche alle prospettive, allenatore da un grande trascorso calcistico, ancora da scoprire come allenatore, una squadra che sta ingranando in un contesto di un campionato di cui le ultime ore, anche voi del Parlamento sarete chiamati a dover esprimervi perché sono nate diverse problematiche. Sì, è un campionato un po' strano, parte, riparte, aumentano e diminuiscono le squadre, vedremo di capirci qualcosa, comunque la squadra del Perugia a me piace, il Presidente l'ha immaginato come una rifondazione con un allenatore che è uno sportivo straordinario, persona grandiosa, un campione a cui tutti noi siamo ovviamente legati, prima di tutto da sportivi, al di là di essere tifosi, che ha avuto l'onore e l'onere di calcare campi importantissimi, di vincere qualsiasi cosa possiamo immaginare, quindi penso che potrà dare a questi ragazzi, una squadra molto giovane, un contributo di crescita importante. Ci sono anche, secondo me, dei grandi talenti in squadra, quindi penso che possa aspettare un buon futuro al Perugia e penso che questa rifondazione dell'anno zero cui auspicava il Presidente sia abbastanza concreta e speriamo di vedere i frutti quanto prima.